segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te eccoci luciana io ho detto che sei a zaporigia però correggimi pure se ho informazioni sbagliate e soprattutto ho promesso che tu avresti avuto notizie di prima mano da mariupol anche qui dimmi se è vero oppure no eccoci allora buona buon pomeriggio a tutti intanto sulla seconda ti posso rassicurare qualcosa in più te la posso dire sulla prima sono ancora in cammino purtroppo i posti di blocco sono tanti la connessione è quella che è adesso mi sono fermata in una in una casa in un villaggio trovato qui per strada solo per avere la wifi e collegarmi con voi quindi la situazione è questa detto ciò ho visto prima che avete appunto letto quell'agenzia sono più o meno le notizie che abbiamo anche noi io sono in contatto con i volontari di epicenter che è appunto il centro di zaporigia dove arriveranno queste queste persone e più o meno le notizie sono quelle cioè più o meno 100 persone 100 e oltre persone sarebbero già arrivate dall'asovstal e altre persone sono in arrivo il problema qual è i bus sarebbero stati organizzati quindi rispetto a quello che avete già detto voi c'è proprio un problema anche di posti di blocco queste persone devono superare almeno 17 posti di blocco russi non è detto che vada tutto bene era successo anche un mese fa quando abbiamo accolto sempre a zaporigia i 42 autobus carichi di oltre 3000 persone che arrivavano da mariupol succede sempre che si organizzano i corridoi umanitari e poi nel mezzo per strada accade qualcosa e quindi appunto il problema è che i corridoi umanitari si avviano e poi appunto concretamente ogni posto di blocco non è quindi perdona tu quello che ci puoi confermare che effettivamente donne e bambini poi non sappiamo la composizione questo numero x di evacuati queste persone comunque sarebbero uscite dall'acciaieria e stanno aspettando i bus che non sono arrivati per tempo per le cause che ci raccontavi dalle notizie che so io sarebbero usciti e si sarebbero messi anche in marcia però nessuno riesce ancora ad avere notizie certe ci sono però ogni tanto delle altre persone che arrivano non da mariupol ma da altri villaggi occupati lì vicino in macchina cioè stanno arrivando piano piano non si riesce non si riesce a capire altro ma anche parlando con il press officer militare di di zaporigia si hanno informazioni più precise perché per ragioni di sicurezza poi non dicono molto chiaro grazie per il momento luciano ovviamente ti ritroviamo più avanti al momento sì volevo aggiungerti soltanto questa cosa è strano in teoria l'impressione è che siano partiti e che stiano avendo problemi per strada perché l'informazione che continuano a darci è che tra due ore dovrebbero esserci e poi però ogni tanto succede qualcosa dovrebbero esserci e quando dici questo ti riferisce a zaporigia dove tu stessa stai andando giusto il punto di arrivo va bene ci ritroviamo lungo il tuo percorso appena puoi ti ricolleghi e ci dai notizie grazie intanto luciana